L'amore conta Allora diciamo che nella mia famiglia mamma anche lei ha iniziato col canto cantando e fin da piccolina comunque con i karaoke magari qualche festa è sorta questa passione non è stata una delle prime passioni però è quella che fortunatamente sono riuscita a portare avanti Qual è invece l'augurio che fai all'Angelica del futuro per quanto riguarda la carriera? Beh allora che dire ovviamente mi auguro il meglio principalmente vorrei poter partecipare magari a programmi televisivi come amici per poter poi avere un futuro migliore Noi te lo auguriamo e facciamo invece un saluto ai nostri amici di Street News e a tutti quelli che invece hanno partecipato all'amore conta Ciao Ciao Ciao